buongiorno a tutti oggi è il 17 aprile è pasqua eccomi qua mi levo anche gli occhiali al sole così almeno che si vede meglio e vi volevo augurare semplicemente buona pasqua a tutti grazie a tutti del canale di tutti quelli che mi state seguendo veramente tantissimi scusate se non sto pubblicando video su ultimi giorni ma sono veramente incassinato con il lavoro e lavorando a tempo pieno che un'azienda mia è veramente difficile riuscire a tagliarsi del tempo ho preferito ritagliare il tempo per fare un viaggetto con la mia famiglia e mettere un attimo da parte il canale scusate di questa mia diciamo mancanza di video di questi tempi però ho voluto un attimo staccare perché sono veramente stanco e ho bisogno di passare del tempo con la mia famiglia però in questo tempo chiaramente ho fatto un viaggetto siamo stati in diversi posti abbiamo visitato un po di posti con del resto ruschi è un video che chiaramente vi metterò o in serbo altri video che ho già girato anche di tecnica però sono lì sono da preparare e da buttare su quindi ci sono sono già pronti ho lavorato nel frattempo però chiaramente lavorando tutti i giorni dalla mattina più o meno alle 7 7 e mezzo inizio a partire da casa lavoro tutto il giorno non rientro spesso neanche per pranzo torno la sera alle 8 è difficile poi dedicarsi ai figli quell'oretta ai figli oretta e mezzo per giocarci per starci un pochino insieme e poi mettersi alle 10 e mezzo alle 11 la sera per il canale a lavorare sinceramente è abbastanza pesa e quindi niente arriveranno 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 presto tutti i video spero in prossima questa settimana quindi riuscire a montare almeno un paio e poi dalla prossima settimana riuscire un pochettino a rimettermi in pari con tutti i video anche perché è un materiale infinito ho ore di video da dover montare quindi diventa un lavoro veramente veramente importante e semplicemente oggi vi voglio augurare una buona pasqua una serena pasqua divertitevi state in famiglia noi siamo tornati dopo tre giorni in viaggio tra il Lazio e la Toscana siamo tornati a casa facciamo una diciamo una Pasqua in famiglia a pranzo a cena e dopo cena si riparte siamo tornati per passare insieme alla famiglia niente vi ringrazio grazie a tutti ancora siete tantissimi e siete qua siete nel mio cuore perché siete una famiglia grazie ciao divertitevi buon Pasqua buon Pasquetta e andate a giro divertitevi state in famiglia fate quello che volete e sorridete la vita perché la vita è bella e bisogna sorridere alla vita ciao ragazzi